L'agronocerino sarnese si colora di rosso. Ha scafati la situazione più allarmante. È il sindaco Cristofaro Salvati che comunica il dilagare nel suo comune non solo della variante inglese. 50 i casi certi. I dati che ha pubblicato del contagio nella sua città sono eloquenti. L'incidenza dei nuovi positivi nel comune dell'agronocerino sarnese è il triplo di quella campagna con 485,42 casi ogni 100.000 abitanti. La percentuale dei nuovi positivi nell'ultima settimana è del 16,20 per cento. Il doppio di quella registrata a livello regionale che è dell'8,8. Con l'ordinanza numero 12, ha detto il sindaco Cristofaro Salvati, ho disposto una serie di misure finalizzate ad evitare il rischio di un'ulteriore diffusione del covid-19 nella nostra città che potrebbe avere effetti devastanti. Solo ieri 71 nuovi casi di contagio ha scafati, a cui se ne aggiungono altri 20 comunicati in mattinata. 759, quelli attivi. Le misure che abbiamo deciso di adottare, continua Salvati come amministrazione, sono motivate da questo esponenziale incremento del numero dei positivi che purtroppo continua ad aumentare progressivamente. Misure necessarie che vengono adottate è anche tenuto conto dell'impennata dei contagi a scafati, come negli altri comuni dell'agro nocerino sarnese. Stessa situazione anche ad Angri. Anche qui la media dei contagi nell'ultima settimana è il doppio di quella regionale. Si chiude tutto, dice Cosimo Ferraioli, imponendo restrizioni da lockdown. Anche a Nocera Inferiore il sindaco Maglio Torquato adotta provvedimenti restrittivi, chiudendo tutte le scuole fino al prossimo 2 marzo e chiedendo al prefetto di Salerno di aumentare la dotazione di forze dell'ordine per i controlli del rispetto delle restrizioni sul suo territorio. Intanto domani attesa riunione dei sindaci dell'area, compresa Cava dei Tirreni, con il responsabile dell'emergenza covid dell'ASL di Salerno, il dottor Saggese, per concordare azioni comuni da intraprendere, a partire dal blocco delle attività in presenza nelle scuole di tutto il territorio a nord di Salerno.